E oltre un miliardo di euro per le marche dai bandi europei e per stabilire come utilizzarli al meglio, la regione ha promosso una serie di incontri sul territorio con le categorie economico-produttive e con gli enti locali per ascoltare le loro proposte. L'ultimo incontro ieri a Senigallia. Oltre un miliardo e cento milioni di euro da spendere nei prossimi sette anni per il rilancio delle marche è la pioggia di finanziamenti europei pronti a piombare sulla nostra regione per disegnare un nuovo scenaglio di sviluppo. Arrivano dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e saranno dirottati sul territorio. Per questo la regione ha avviato una campagna di ascolto che ha fatto tappa nei comuni delle marche, l'ultima a Senigallia in cui ha chiamato a raccolta istituzioni, imprenditori ed associazioni di categoria per scrivere insieme il futuro della regione. L'idea è quella di disporre di un cruscotto in cui alle risorse che non sono tantissime proprie della regione che derivano dalla fiscalità regionale si aggiungano queste somme così importanti che però devono poter essere individuati in una logica coordinata perché il PNRR dà soldi soprattutto per gli investimenti, il PORFSA alimenta la spesa necessaria per mettere in esercizio quegli investimenti e quindi abbiamo bisogno davvero di sensibilizzare la classe dirigente anche a progetti davvero adeguati a cogliere le opportunità di questo tornante della storia repubblicana. È un rilancio in cinque mosse quello su cui puntano le marche, cinque gli obiettivi per progettare una regione più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini e a dettare la ricetta sono proprio i territori. I collegamenti quindi per quanto riguarda le strutture sociali, per quanto riguarda quelle turistiche e recupero anche degli immobili. Sicuramente i territori hanno molto bisogno e il fatto che ci sia una regione che ci stia ascoltando è estremamente positivo e per questo siamo ottimisti. Ma i fondi puntano anche al rilancio dell'economia, di cui la necessità di concertare nuove strategie con gli imprenditori e le associazioni di categoria. Il 2022 è un anno determinante per tante imprese, per l'evoluzione, lo sviluppo, l'integrazione di tanti progetti che i nostri imprenditori hanno messo in campo in questi anni. Io sono sicuro che con una giusta individuazione di quali sono le linee di questi fondi e come metterli in campo, gli imprenditori potranno avere quell'aiuto importante per evolversi.